Buongiorno a tutti, dato che siamo nel periodo delle conserve, vi faccio vedere come faccio i pomodori pelati. Questo è il mio pelato. Mi occorrono pomodori belli maturi, barattoli in vetro sterilizzati, basilico quanto basta. Iniziamo la preparazione. Ho messo dell'acqua a bollire, nella quale metto i pomodori. Precedentemente ho lavato il basilico, ora lo pulisco e lo asciugo. Ricavo solo le foglie. Precedentemente ho lavato i pomodori. Quando l'acqua bolle, metto i pomodori. Lascio per 2-3 minuti in acqua. A questo punto li tolgo. A questo punto pelo e pulisco i pomodori. Togliamo il picciolo e la parte bianca se c'è. La parte bianca se c'è. A questo punto riempio i barattoli. Alla base metto 2 foglie di basilico e inizio a mettere i pomodori. Premiamo. e rimetto altre 2 foglie di basilico. Riempiamo fino all'orlo che poi con la cottura si asciuga. Ora chiudo. Verifichiamo che non ci sia aria e li facciamo tutti così. E rimetto. E rimetto. Una volta riempite e chiusi, li facciamo bollire. In una pentola con l'acqua mettiamo un canovaggio e mettiamo dentro. L'acqua deve superare sempre i barattoli. Faccio bollire per mezz'ora. Una volta raffreddati li conservo in luogo fresco e asciutto anche per un anno. Grazie della visione. Alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.